Eccoci qua, puntata speciale di Arcade Studio Podcast con invitato speciale, ciao Alessandro, finalmente ce l'abbiamo fatta a vederci e fare qualcosa insieme. Che piacere veramente, no assolutamente, ciao ragazzi, è veramente un piacere essere qua con voi e soprattutto che insomma mi sento con un legame speciale e quindi grazie veramente per essere qui insomma. Quando è entrato la possibilità di fare queste puntate speciali nel negozio Adidas qui a Milano, il primo nome sulla mia lista di tu, perché ho detto no, se c'è qualcuno che può parlare di sport e di sofferenza, non c'è nessuno di meglio che il triathlete, perché se c'è uno sport che è sofferenza è quella roba lì. Infatti forse partiamo proprio da quello, ma cosa ti ha spinto a fare quello proprio? Beh effettivamente sì, adesso il triathlete è vista un po' come sofferenza, in effetti ha un po' questa immagine, perché incalza tre sport, però sì, diciamo che partiamo dall'inizio, il fatto che io mi ho iniziato, ho iniziato provenendo prima da uno sport di questi tre, che era il nuoto, ho iniziato quando avevo quattro anni perché mi muovevo un sacco e i miei genitori, mi ricordo che a un certo punto mi hanno messo nelle orme di mio fratello, come voi, più o meno, e ho iniziato col nuoto. Poi a 18 anni, tra i 17 e i 18 anni, diciamo già incalzavo bene il concetto di sofferenza, perché comunque il nuoto facevo parte di un gruppo in cui facevo resistenza, gara di resistenza, quindi già lì si incalzava bene questo aspetto e a 18 anni, diciamo, sono passato nel triathlon perché mi ha dato la possibilità, il secondo allenatore della squadra di nuoto, ma perché proprio, potrei dire per casualità, però poi la casualità non esiste, ecco, io sono molto di questo avviso. Mi sa che poi entriamo in quel loop di filosofia. Esatto. E quindi lì è iniziata questa avventura, ecco, devo dire così. Fantastico, no, perché sono l'unico sport dove non hai una vera, cioè, qualcosa di subito, no? Cioè quando giochi con gli amici a calcetto o qualcosa, almeno alla fine, cioè... Hai 10 persone, vinci la partita, cioè hai una possibilità su due di vincere la partita, no? E poi con 10 persone vai a berti una birra, allora è molto più agglomerante, no? Mentre lì sei da solo, ti svegli alle 4 del mattino, inizi a nuotare nell'acqua gelida, poi devi correre, poi devi saldare in bicicletta, cioè, è proprio... E hai te e il tuo allenatore, no? Non è che... Sì, effettivamente è, come dire, sicuramente non è un gioco di squadra. Sei da solo, devi gestirlo da solo. Ma già provenivo appunto dal nuoto che esso stesso mi ha dato un concetto di sofferenza e di allenamento da solo, perché anche nel nuoto non c'era questo concetto. Quindi il triadono è stata una conseguenza dove poi ho ampliato. Poi io stesso sono uno che, tra virgolette, mi definisco un po' orso, nel senso che quando mi alleno non mi alleno in gruppo, tendenzialmente sono uno che si allena sempre... Mi sono sempre allenato, molto del tempo della mia carriera da solo ed effettivamente non è semplice, certe volte soprattutto gestire dei momenti in cui non vai avanti. Cioè, proprio è delle giornate che diresti, ma perché? Chi è che me l'ha fatto fare? Invece, ecco, in quei momenti è difficile, diventa difficile. Il gruppo magari potrebbe darti una mano. Sì, ma ti spinge anche... Non so, io vedo mezzo adesso che sono un pigro... L'ha tentato. Infatti prima sembrava che parlavi da esperienza, no? No, no, no. No, ti svegli alle quattro di mattina... No, io vedo le sue stories e capisco cosa sto facendo. Allora funzionano. Ti vedetevi subito. Il 2 giugno io sto preparando la grigliata e lui sta facendo il diciguantesimo chilometro. Giustamente te vai le Olimpiadi e io sto a bovisa a grigliare, a guardarti. C'è la differenza, si sente. In tv. Ma infatti questa roba qua di disciplina, cioè proprio è una disciplina estrema, hai dovuto imparare quello o sei nato con questo senso di disciplina? Finno piccolo? Devo dire che probabilmente questo senso di disciplina, anche questo modo di sacrificare, è qualcosa di intrinseco, nel senso che è come voi magari quando vi appassionate poi di un lavoro, però comunque quello viene un po' da dentro. sicuramente poi l'ho coltivato anche, nel senso che è stata una cosa che da dentro è venuta, però poi mi sono messo lì, ho coltivato, l'ho fatto, il fatto proprio di star lì sul pezzo costantemente, del sacrificio, della difficoltà, è una cosa che è un po' è venuta, è un po' comunque l'ho dovuta coltivare, è ancora tuttora, questa è una cosa che non finirà mai. Immagino, immagino perché proprio quel punto di, cioè penso sempre, quando vedo queste gare di endurance soprattutto, tipo a che punto, cioè entrano le endorfini, a che punto dice, ok questo è il punto di, l'evento horizon, come nei buchi neri, cioè dopo questo non posso più tornare indietro, beh se avete voglia intanto di farvi una dose, potete venire con me, sicuramente anche ora, no allora, devo dire che vabbè, io faccio, c'è da dire che la mia distanza, è la distanza olimpica, dove non ho delle crisi in cui devo continuare per forza, come dire, mentre l'Ironman sono otto ore di gara, a fronti delle crisi in cui, il tuo corpo magari ti dice, no non voglio più andare avanti, e tu devi mettere la tua volontà ad andare avanti, ad un certo passo, magari che non è un passo supersonico, non è super veloce, ma è un passo comunque che puoi mantenere, però lì è una crisi diversa rispetto a quella che affronto io, perché quella che affronto io è una crisi in cui tu vai al massimo delle tue possibilità, per non so, non dico due ore, però comunque è sempre, è molto a picchi, dove tu vai a massima intensità, come a una minima intensità, dipende dal momento della gara, però tendenzialmente è sempre molto molto elevata, quindi hai un, come dire, hai un confronto con la paura, con il modo di soffrire, con la sofferenza, con il sacrificio diverso, dove tu effettivamente porti il tuo fisico a superare a un limite che comunque devi mantenere, quindi è come dire, sei all'estremo e il tuo fisico farebbe tutt'altro che all'estremo, e lì allora devi giocare su questa sofferenza, su questa difficoltà di superare quel limite e mantenere quel limite, ed è interessante, infatti, proprio questa è la differenza tra la lunga distanza e la corta distanza che faccio io, forse probabilmente un domani mi mancherebbe proprio questo, cercare quasi l'estremo. Sì, ma è quello che vedo, che poi i tre atleti, invecchiando, vanno tutti a fare Ironman, il Moab 250, cioè correre a piedi scalzi, sulla lava, sull'Altico, cioè robe così, perché a un certo punto, credo che finché hai una certa età, che puoi arrivare agli Olimpiadi, cioè, il sogno è quello per l'atleta, no? Assolutamente, infatti, secondo me, come hai detto tu, diventa anche una status, nel senso che l'Ironman sicuramente è una distanza che inizialmente, diciamo, più avanti vai con l'età e più ti si addice, perché effettivamente raggiungere certe intensità, lo puoi fare quando sei più giovane, perché il fisico hai più energia, hai più vigore, hai determinate caratteristiche nella gioventù, ti aiutano a raggiungere, non so, l'Olimpiade, eccetera. Poi, è un percorso naturale, sicuramente, quello che a me affascina un sacco del mio sport, è che, proprio della mia disciplina olimpica, è che comunque tu hai bisogno di andare su un limite che è veramente pazzesco, nel senso che è un limite bello che devi ricercare, che devi mettere alle strette il tuo fisico, la tua mente soprattutto e il tuo fisico. Quindi devi avere proprio la visione di arrivare a quel punto, cioè devi sapere che quello è il mio limite, devo arrivarci. E' come dire, è molto più inconscio, secondo me è una cosa sottile, nel senso che, qui, certe volte andiamo su un filo del rasoio tra la vita e la morte, no? E' un concetto in cui, tendenzialmente quando fai un estremo, uno sport ad alta intensità, quindi diventa estrema, inconsciamente il tuo cervello entra in una, come dire, in una zona di dangerous, dove ha paura, è pericolosa, perché vai incontro a una cosa che non sai, quanto puoi spingere, quanto puoi rendere intenso quella situazione, ed è estremo, quindi tendenzialmente risuona, nel tuo cervello risuona come se fosse la morte, e quindi inconsciamente questa cosa io l'ho vista, perché poi sono un appassionato della psicologia, mi ci immergo molto, ed è un concetto che ci devi andare distinto, nel senso che devi buttarti, non ci devi pensare, e infatti poi chi riesce ad essere anche più portato a questo, a buttare il core al di là dell'ostacolo, poi riesce anche ad andare oltre, e poi devi trovare un equilibrio logicamente, perché non è che puoi andare allo sbaraglio, e poi in ogni cosa bisogna anche, cioè onde, intensità massima, poi riposo e qualche genere, e cos'è la differenza tra il primo posto, e il decimo, perché suppongo che i primi dieci più o meno arrivano in 20-30 secondi, uno dall'altro, e poi c'è il fall off, cioè lì è talento, è testa, è allenamento? Secondo me, diciamo che, quello che ho capito nel tempo, è che, non c'è mai solo una cosa che, come dire, vince su tutto, non so, non c'è solo il talento, ma c'è, non so, il fisico, il talento, la mente, la tua percezione, tutto quello che è insieme, che ti porta a vincere, spesso ci sono state delle fasi della mia vita, in cui dicevo, pensavo che potesse essere solo fisico il mio problema, poi ci sono stati dei momenti, in cui pensavo potesse essere solo psicologico il mio problema, e alla fine quello che vedo è che spesso siamo settoriali, pensiamo per pezzi, invece tendenzialmente siamo l'insieme di tante piccole cose, quindi la psicologia, il corpo, tutto l'insieme che ti porta lì, poi tra un vincitore e un secondo, tra il vincitore e i follower, sono, come dire, la situazione momentanea può essere, io non so in questo caso, tra me e il vincitore, effettivamente quale sia la cosa più grande che ci differenzia, per me ho una vaga idea, che secondo me potrebbe essere molto fisicamente, perché io sono un racer, a me piace molto la gara, sono uno che riesce a dare il 100% in gara, però anche dei limiti fisici, certe volte che ho visto che spesso mi hanno, come dire, fatto arrivare fino a un certo punto, soprattutto adesso che ho una certa età rispetto ai giovani, lo vedo ancora di più questa cosa, però sì, secondo me, ecco, magari dei momenti possono esserci delle cose solamente, che fanno differenza, come altri giorni invece ci possono essere più cose, però sì, diciamo ecco, questa secondo me è una spiegazione che si avviene. Ci sta, e poi come in tutto, il top of the top of the top è quello che ha meno problemi, è quello, è il problema di brutto e vuole solo sfogarsi, oppure sta scappando dai problemi molto seri, perché poi anche lì è una questione anche di, cioè, mentale, emotivo, fisico, e anche strategia, perché non è che tipo puoi solo dare il massimo e basta. Allora, esatto, allora, qua mi ha aperto, Andy mi ha aperto una porticina, nel senso che, spesso, secondo me, gli atleti hanno di base dei grossi conflitti, su cui portano a vincere, però, tendenzialmente, quello che ha detto Andy è il fatto dei problemi, al di là della psicologia, che può essere proprio un conflitto di base, ma fisicamente una cosa che ti fa fare il salto di qualità è non avere problemi, essere costanti, costantemente essere lì sul pezzo, ed è questo che ti permette di fare la differenza. Non so, adesso parliamo anche dei social, che ultimamente attira molto. Cos'è che ti permette spesso di essere molto in voga? la continuità del tuo lavoro, che poi lo potete vedere anche voi nel vostro lavoro, credo, ed è quello che effettivamente ti porta poi a fare uno scalino, perché l'evoluzione della performance segue un po' l'evoluzione umana, fisica in questo caso, ma anche emotiva, psicologica, però soprattutto fisica, quindi il fisico si adatta nel tempo, e tu più continuità riesci a dare, e quindi meno problematica, meno infortuni, meno problematiche mentali, eccetera, riesci a avere, meglio è, perché la tua performance è più lineare, hai una, diciamo, una parabola. Sì, vai in hockey stick, dove hai parti in basso, poi tutto in un tratto vai verso l'alto, perché gli altri attorno a te si stanno rompendo, e te vai avanti, un po' come nella Formula 1, perché ha risolto tutti i loro cazzi, e gli altri man mano si rompono. So che lì hai il pit stop almeno, comunque io su questo proprio, avevo un coach bellissimo, si è preparato questa volta, si è preparato di brutto, di solito non prepariamo niente, allora qui c'era, il triathlon non crea, non costruisce carattere, lo rivela, questo era bellissimo, quando l'ho letto ho detto, eh vedi, cioè perché uno che molle, che lascia andare, che dice approssimativo, cioè non andrà mai tanto lontano, in nessun sport, ma specialmente in uno sport dove devi fare così tante discipline diverse tra di loro, e devi trovare la perfezione del movimento in ognuno, io lo vedo quando c'è una calzata, però io tiro con l'arco, e se tu sbagli di un millimetro la posizione della mano, hai sbagliato il colpo, perché ogni movimento deve essere sempre lo stesso, e devi seguire un ritmo, cioè respiri in questo momento, tiri indietro in questo momento, focalizzi, e poi tiri, e se tu sbagli o fai in fretta qualcosa, l'errore si evidenza sempre di più, poi ovviamente sulla lunga distanza si evidenza sempre di più, cioè se sei a dieci metri vecchi, il giallo, se sei a cinquanta, se poi sei a treci metri vecchi, vecchio che sto facendo triallo, che sto passando a cinque, così, no, cos'è che ti gasa, cioè cos'è che guardi, per prenderti bene, per venirti voglia di, o ascolti, o c'è qualcosa, nella cultura popolare, che ti aiuta? Allora, beh, io sono uno, molto, come vi ho detto, mi piace molto la psicologia, mi piace molto l'emotività, quell'aspetto che spesso è tralasciato, quindi, diciamo come cultura popolare, che mi piace portare con me, e che mi aiuta, è quello del rilassamento, dell'essere sul pezzo, ultimamente sto facendo molti esercizi di focalizzazione, sul presente, su quello che voglio fare, su quello che devo fare, e magari, ascoltando la musica, ma proprio facendo anche degli esercizi, dove spezzo dei rami secchi, che non mi servono in quel momento, e che magari mi abbassano la tensione, mi rifocalizzano, mi fanno stare qui nel presente, cose di questo genere, ecco questo, tendenzialmente è questo quello che faccio, è che mi piace, che sento che mi aiuta molto, nella gestione, soprattutto dello stress pregare. E fai meditazione anche? Sì, faccio qualcosa, nel senso che tendenzialmente, quello che vedo, è che, quello che mi aiuta molto, è il silenzio, togliere tutto ciò che c'è attorno, mi aiuta a stare lì, in quel momento, in pace, concentrato, la gara è lì, io sono qua, e vivere così, questo momento, costantemente, fino al momento della gara, ti permette anche di, di staccarti, dalle emozioni, che spesso, ti portano, ad essere, eccitato, adrenalinico, e che, spesso magari, ti fanno consumare, tante energie, per esempio, quello che ho notato, adesso sono tornato da Leeds, e nelle ultime due weekend, ho fatto due gare, una in Sardegna, e una appunto a Leeds, in Inghilterra, e la cosa simpatica, era come ho vissuto, la prima gara, rispetto alla seconda, e, in questo caso, ho potuto anche vederlo, perché tramite, l'orologio, proprio vedevo, lo schema, di come, l'andamento, del mio corpo, delle energie, del battito, del flusso, diciamo, vitale, aveva durante la giornata, e di come la tensione, anche emotivamente, emotiva, ti attivi molto di più, rispetto a, a quando magari sei più sereno, più tranquillo, e ho visto le due differenze, come una sono riuscito, a viverla più serenamente, la seconda magari, con un po' più di tensione, anche dovute poi, ai viaggi, alle situazioni, magari di stress, proprio dovuto esternamente, all'alleamento, e anche a, alle situazioni che si formavano, ed è interessante, questo aiuta molto, secondo me, a quietare. Sì, sì, ma quante, quante gare che puoi fare, di seguito, nel senso, ma dipende, quante ne vuoi, tendenzialmente, poi il periodo non è, non è propizio, nel senso che, il periodo, stiamo vivendo, è stato molto, deleterio per lo sport, tendenzialmente, siamo riusciti a riprendere, quest'anno, io ho messo, insieme, quattro gare, a dire il vero, tre gare, praticamente, ho fatto, il 15 di maggio, ho fatto la mia prima gara, della stagione, poi, ho fatto un weekend di buco, dove, a dire il vero, ho gareggiato in qualcos'altro, perché avevo voglia, comunque, di sentire, una lina gara, poi ho fatto la Sardegna, come vi ho detto, e poi l'ultima adesso, dipende da te, certo, mi ricordo, il mio vecchio allenatore, mi diceva sempre, che noi, comunque, abbiamo, tot di pallottole, e devi stare attento, a quale si pari, perché poi, se ne spari troppe, rischi che, nel momento propizio, non ce l'hai la pallottole, e, e, cosa hai fatto, in questo periodo, nell'ultimo anno, per, cioè, perché dovevi, prepararti per le Olimpiadi 2020, allora, avrai fatto tutto il lavoro, per essere pronto lì, perché a febbraio, praticamente, eri in pre-organizzazione, suppongo, no? Sì. E poi, chiudono tutto, il tuo processo mentale, lì, sarà stato un bordello. Eh, sì, allora, devo dire, probabilmente l'inizio, inizio non è stato così difficile, è stato poi, perché il problema è che, quando hai un cambiamento, accusi il colpo, ma poi è nel lungo periodo, che ho visto, almeno io ho reagito così, nel lungo periodo, è stato più difficile tenere, perché all'inizio, magari, il cambiamento, dici, è come un contraccolpo, reagisci, però poi è nel lungo periodo, in cui ho visto che, è stato più difficile gestire, perché le energie, venivano a meno, l'anno scorso, mi ricordo che a febbraio, avevamo fatto i primi due, i primi due mesi, i primi di marzo, a Fortaventura, ce l'avevamo, andavamo bene, stavo bene, eccetera, e mi ricordo che, da lì, dovevamo andare ad Abu Dhabi, per la prima gara, però l'avevano nullata, perché c'era questa cosa, che veniva, e mi ricordo che è stato veramente, una salassata all'inizio, però ho detto, vabbè dai, teniamo duro, facciamo, via, e poi alla fine, tutto il primo periodo, non abbiamo più fatto niente, e da lì, abbiamo ripreso le gare, a settembre, diciamo, è stato difficile, arrivare verso luglio, comunque, riniziare, perché lì, in quel momento, bisognava riniziare, tra virgolette, a rimettersi in moto, mentalmente soprattutto, e in quel momento lì, è stato, secondo me, più difficile, soprattutto anche poi, perché io non sono più, così tanto giovane, e quindi spostare in un anno l'Olimpia, è stato, caspita, che caspita, cosa sta succedendo? ma poi hai anche, cioè, in un ciclo normale, hai tre anni e mezzo, per in qualche modo, costruire, no? Se poi interrompi quello, proprio nel momento, in cui dovresti essere, in preforma, che deve essere... No, è vero, infatti, c'è stato qualcuno, che come una nostra compagna, che è arrivata fino allo scorso anno, a luglio, però, quando la pandemia, ha fatto un'altra scelta, ha detto, io voglio diventare mamma, ha lasciato, cioè, ha lasciato la qualifica, e è diventata mamma, ha partorito l'altro giorno, quindi, insomma, voglio dire, è una scelta, è una scelta, è una scelta, Tokyo 2020, perché ha detto, no, io voglio ricordarvi, questa pandemia, questa situazione, perché, oltre all'essere distruttiva, per tante cose, era anche, una specie di fuoco, no? Tante cose si sono potute, rinvigorire, anche, dopo di questo, perché, come dicevi prima, mi secchi, ti togli, cioè, se tu, avevi la possibilità, di usare il moso costruttivo, poteva essere molto positivo, no? Sì, e allora, io l'ho preso così, cioè, ho smesso di produrre, ho smesso di, ne abbiamo parlato mille volte, comunque, di cercare di essere creativo, soprattutto nei primi tre mesi, ho detto, senti, sai cosa facciamo? Ci sediamo, e valutiamo, più che altro, il lavoro fatto prima, e così che poi, possiamo ripartire da qualcos'altro, invece di cercare, di fare qualcosa, a tutti i costi, mantenere la normalità, tipo, no, infatti, ma ci voleva, una specie di, non tabla rasa, però tipo, sì, esatto, un bel reset, parziale, diciamo, perché, no, ci vuole, perché ogni tanto, è proprio quello, tante volte sei talmente dentro, quello che stai facendo, no, nella tua vita, e il fatto, che hai detto prima te, cioè, ogni tanto devi essere, consapevole di essere qui, in questo momento, cioè, non pensare a mille altri cazzi, no, e, e certe volte ci vuole una sberla, bella, bella forte, per farti capire, guarda, ok, svegliati un attimo, analizza un po' quello che stai facendo, quindi, sì, è bella parola. il motivo per cui noi usiamo le cuffie, anche se non è tecnicamente necessario, è per creare questo, senso di avvattazione, no, perché è figo, a dire il vero, perché a me piace un casino, questa cosa, anche se siamo in uno spazio pubblico, in questo momento, oppure siamo in studio, come lo facciamo di solito, cioè, comunque, tutto nel tratto diventa noi tre, no, ed è quello, cioè, taglia fuori tutto il rumore esterno, lo Stranger Things, quando entra nella stanza nera, no, nella stanza buia. Upside down? No, l'upside down è, quando lui fa il triathlon, mi sai che va nell'upside down. Sì, esatto. Non so come si chiama quella... Il sensory deprivation tank. Eh, più o meno. In inglese, sì, che ti toglie tutta la sensazione di tutto questo. Non l'hai mai provato? No. È praticamente un serbatoio d'acqua salina, ok. che ti tiene perfettamente fermo, tutto buio, ho capito. Senza rumore, senza niente, allora apri gli occhi, veri niente, non senti un cazzo. Ah, ho capito. E tu stai lì dentro con i tuoi pensieri. Eh, ho provato, no, allora non ho provato una cosa simile, però ho fatto una seduta di respiro circolare, in acqua termale, dove usi praticamente, un respiro circolare significa una respirazione mai interrotta, quindi respiri così. e lo facevo con un boccaglio e a un certo punto ti apre molto, nel senso che vai in iperventilazione, quindi non stai facendo attività. Ed è come se, diciamo, in qualche maniera ti facessi una dose, nel senso che è molto forte, però è anche molto significativa, perché apre delle porte molto più profonde rispetto al presente che tu stai vivendo. ed è interessante, nel senso che è da provare. Non ho provato questa, ma perché sei a testa in giù, comunque immerso nell'acqua, col boccaglio, quindi sei in una situazione abbastanza, sì, senti qualcosa, ma poca roba, quindi deve essere veramente figo. Io sto seguendo questo pazzo hollandese che si chiama Wim Hof, che praticamente lui è famoso perché va nell'articolo, nuota in spido, e lui ha sviluppato tutto una cosa di respirazione circolare, perché dice che praticamente porta il sangue ai capillari, perché ti spinge e allora si... Vosa dilata. Cioè, esatto, 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 e praticamente quello in qualche modo ti termorealizza meglio, ti fa... cioè, risolve un sacco di cazzi, praticamente. Stringendo. C'è anche Iceman. Lui, 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 Vim Hof si chiama Iceman. Sì, 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 Come il paese, Sì, esatto, Pianete. Come Star Wars. No, Chiacca. ok. Non Hoff. What is it? Hot? è hot. Hot. sì, sì, esattamente così. Hot in italiano. Però è simpatico, lasciatemi la dire, ma è proprio simpatico a vedere come riuscite a cambiare questo tra italiano e inglese con questo bilinguiso. Poi è bello che facciamo entrambi male, cioè, è quello il fatto. è libero. E siamo qua a parlare comunque. La vera capacità è quella. È bello, vedi, da qui bisogna, cioè, prendere questo spunto e farlo diventare è una cosa... È quello che proviamo. Un podcast. Un podcast. Siamo qua, guarda. Ho un'altra delle mie cose preparate. Ogni tanto c'è una... Questa è bellissima. Un quote. Dio inventò le maratone, ragazzi, adesso sto anche per un centro d'italiano. Questa mi fa morire. Dio inventò le maratone per tenere, per fermare la gente di fare cose stupide. Sì, più o meno potrebbe essere una cosa veramente veritiera. Il triathlon deve averlo preso totalmente di sorpresa. Sì, effettivamente qui possiamo mettere dentro tante categorie, veramente di tutto. Il pad è lo pad. Ma infatti io penso sempre tipo, nel mio piccolo, cioè il mio triathlon è quando tipo esco di casa e poi a un certo punto mi scappa e vedo casa mia e il corpo dice ok, sei a casa. sono solo nella via. Poi ci ho pensato tipo figurati a fine traguardo, quando vedi il traguardo che è tipo ancora quasi a 800 metri, il cervello cosa ti dice in quel momento? Cioè di rilassarti, sei arrivato e devi fare, è lì la battaglia non dico vera però. è un po' lo stesso discorso di quando prima parlavamo della morte, dell'inconscio che l'inconscio gioca, gioca con te se non sei consapevole di quello che succede ed è così anche con questo nel senso che preso dallo sforzo, dallo sfinimento che non ce la fai più, non ce la fai più, non ce la fai più in quel momento devi essere vigile perché altrimenti ti verrebbe da lasciare andare soprattutto magari puoi accontentarti e questa è una capacità che per esempio io sto notando e non sono mai riuscito a come dire a farne un mio cavallo di battaglia ma non tanto nel mollare prima il traguardo ma nel fare una volata come dire se sono a tu per tu con una persona io tendenzialmente non sono veloce sono uno che deve partire abbastanza per tempo sono un diesel e questa è stata sempre una cosa su cui non sono mai riuscito a fare click come dire a mettere qualcosa in più per riuscire a fare la volata probabilmente perché fisicamente non riesco a farlo e anche emotivamente non riesco a farlo nel senso che io sono uno nei momenti mi sono descritto come un racer perché effettivamente io do tanto durante la gara do tutto quello che ho e nel momento in cui comunque sto per arrivare al traguardo non riesco mai a fare quel cambio di ritmo perché sono abbastanza cico-cico diciamo però questa è una cosa però se hai qualcuno di fianco non ti viene la rogna perché io sono quello anche se sono lento e grasso se sono in una situazione tipo tu anche se so che perdo lì mi sale il sangue del cervello e vado leggermente competitivo infatti non sono fatto assolutamente per cose individuali cioè dove non so vai e corri per tre ore e vediamo poi alla fine quanti chilometri hai fatto da solo no ho bisogno di qualcuno su cui posso sempre paragonarmi e cercare di battere quello che è tipo in Jurassic Park quando dovevano scappare dai veloci raptor però in questo caso è il predato io sarei stato il grande la preda scusate il predatore poi io sono un grande c'è tanta carne li tenevo fermi per un po' di tempo avrei trovato la giustificazione per la mia morte accontentato quindi non avreste avuto tutto la competizione no non mi beccherai poi mi becchio a cavolo e poi vabbè dai almeno sono buono però è simpatica la questione come prima dicevamo della prima quote che praticamente svela il tuo carattere ed è così effettivamente io tendenzialmente nella mia vita mi vedo come una persona che è competitiva la sfida la vedo molto invece dal mio lato la sento proprio dentro di me e non tanto fuori e questa cosa adesso mi ha fatto osservare questa cosa che nel momento in cui sono tu per tu con una persona non riesco ad essere così ah però è vero guarda che sarebbe una cosa su cui cioè lavorarci nel senso effettivamente poi in volata serve anche questo e infatti ho sempre cercato di non arrivarci mai in volata stracciarli prima si esatto distruggere le gambe così non riesci a pensare e che musica che musica ascolti quando non sei in silenzio allora diciamo che mi piace io ho scoperto la musica molto tardi nel senso che diciamo da adolescente fino ai 20 fino a 25 24 23 anni non è che ascoltassi tanta musica mi ricordo che ho passato dei periodi ad ascoltare musica punk perché mio fratello era un un vero appassionato del punk del genere punk fratello maggiore sì mio fratello maggiore e quindi mi ricordo praticamente ho passato diciamo preadolescenza adolescenza in quel periodo con con lui e con con le sue canzoni poi ho avuto proprio un periodo in cui non ascoltavo granché poi diciamo mi sono aperto a tutto nel senso prima quando parlavo della meditazione o di stare in silenzio magari mi ascolto qualcosa che mi aiuti a conciliare la meditazione e devo dire che ho scoperto cantautori italiani soprattutto non momentanei ma non so tipo vado a Lucio Dalla Battiato ma anche gente morte insomma sì gente morte gente morte no qualcosa nel senso più che altro perché ha un significato anche non so in questo momento mi viene Giorgia o Elisa oppure qualcosa dopo invece come più ricchiabile o diverso magari come Coldplay o dopo dipende mi è sempre mi è piaciuto molto ecco un'altra cosa che ascoltavo molto da bambino era la musica anni 90 su cui mi dilettavo molto quando ero piccolo e poi ho avuto un periodo che l'ho ripreso anche quella diciamo che non ho un genere dipende molto dal mio stato dal mood esatto è una cosa su cui proprio mi lascio guidare poi mi è capitato anche di farmi dei pianti con con la musica classica perché proprio mi sentivo ho anche in Audi quando la musica ti va a toccare delle corde che è veramente pazzesca e lì proprio ti doni alla musica ti doni all'artista stesso poi vedete il momento pregare è sempre un momento in cui sei una donna mestruata più o meno scusatemi senza nel senso che sei molto emotivo lo vedo anche con mia moglie lo provo lo provo salutiamo la moglie esatto e quindi sei molto molto emotivo e questa cosa si accentua quindi è veramente fantastico come la musica proprio va a toccare quelle corde mi piace quelle corde dell'anima quelle cose che sono veramente piacevoli poi ti cullano ecco quello c'è più almeno io più invecchio più stagiono diciamo mi parte quella parte emotiva con anche una nota ormai prima guardavo un film ascoltavo il placebo per dire dicevo che se ne frega è una canzone è una canzone poi mi tornai 30 31 ho cominciato ad associare le parole a quella nota anche una pubblicità tipo per i gatti cioè il cibo per i gatti mettono quella nota e dici ah no c'è poi l'abbraccio il marketing come lo studiano i bastardi infatti io adesso ho riscoperto i genesis praticamente ieri c'erano anni che non li ascoltavo più poi ho detto abbiamo parlato con christian ho detto no devo riascoltarli ho messo su li ho fatto sentire la mia figlia e c'era un pezzo che noi giocavamo quando giocavamo a Sega Master System 2 non mi ricordo forse era Wonder Boy o qualcosa del genere sì cos'era il giochino e e e ascoltavamo sempre avevamo tipo tre cd in casa e uno era questa qui dai genesis perché non funzionava l'audio esatto della console si era rotto e quindi mettevamo la musica sotto era una palla e c'era sempre questo pezzo che abbiamo ascoltato 50.000 volte esatto le cose classiche e allora nel mio cervello c'era Wonder Boy che lanciava il cacchio di martello contro le tartarughe no no è che dire dei momenti specifici anche no e poi a me le poche volte che vado effettivamente a correre qualcosa senza musica io non sono capace ho bisogno del ritmo che mi dà è una cosa secondo me molto soggettiva la musica poi io mi accorgo di essere proprio abbastanza ignorante in materia nel senso che spesso faccio delle figuracce però è molto soggettiva come hai detto tu mi accompagna nella corsa mi dà il ritmo è così effettivamente la musica penso sia un qualcosa di più io l'ho scoperto da tardi ma affidarmi poi è stata una cosa bella che mi ha portato compagnia c'era un'altra cosa aspetta c'era un ultimo qua che sono pronto carico è uscito subito la carta di credito non so perché per il pagamento mi devi pagare esatto ci metto d'accordo qui è Chris McCormack che è un australiano Ironman lui dice non giochi a triathlon giochi a calcio quello è divertente giochi a baseball quello è divertente triathlon è lavoro che ti lascia in un piccolo mucchio di schifo sulla strada è come andare su il monte Everest senza averla vista dal cima del mondo che tipo di persona continua a tornare per una roba del genere effettivamente la differenza tra forse anche un Ironman o le altre gare che diciamo più di resistenza che fanno questi posti assurdi spesso voi gareggiate tipo in una strada e poi in un lago siamo dimenticati da Dio in qualche modo esatto non è che avete la vista ma neanche te la concedi la vista perché nel momento in cui sei in gara sei in gara non so mi viene l'esempio di quando tu scatti sei in una location fantastica però non hai il tempo di godertela è un po' così quando sei in gara non hai il tempo poi dipende le location sono strafighe possono essere strafighe come possono essere veramente pessime e ti capita di tutto nel senso che spesso secondo me avremo bisogno e dovremo migliorare il nostro il nostro concetto di triathlon proprio perché se vogliamo farlo diventare uno sport comunque che ha un certo appeal ma soprattutto che abbia un certo status dovremmo dovremmo ragionare da professionisti che già ci ragioniamo però su alcune cose dovremmo prendere esempio dal calcio soprattutto dal ciclismo visto che non è un gioco di squadra ma il ciclismo invece è anche il ciclismo è gioco di squadra però è di resistenza in questo caso ci sarebbero delle cose su cui potremmo fare e Chris ha ragione nel senso che spesso noi non abbiamo cioè abbiamo la vittoria ma se non hai la vittoria hai tanta merda come si dice nel senso da mischiare però ci sta questo è il bello il brutto di essere un atleta di essere quello gli farebbe forse a renderlo un po' più televisivo più che altro cioè se lo fai sempre in posti spettacolari non so allora segui il percorso dell'atleta poi nuota in un lago spettacolare cioè pensandolo per nel punto di vista del viewer sì esatto perché ormai lo sport è quello e quante persone riesci a far sedere sulla televisione infatti mi viene la questione è già il nostro la nostra distanza con l'Ironman tenere una diretta per otto ore sarebbe improponibile infatti adesso la nostra federazione internazionale già da quest'anno avremo per la prima volta la gara squadre all'Olimpiade di Tokyo guardateverla perché sarà veramente figa perché è mista è donna uomo donna uomo e ogni atleta si fa la sua il suo mini triathlon diciamo quindi 300 metri di nuoto 6 km di bici 1 km e mezzo di corsa ognuno quindi ogni atleta è il il testimone è il touch quindi il tocco e questo sarà cioè questa è molto televisiva perché è molto dinamica ed è figa è veramente figa e come hai detto tu la televisione vuole qualcosa di figo di dinamico di veloce perché perché le persone adesso vogliono questo quindi è questa anche la trasformazione che spesso dobbiamo fare e che la federazione ha capito la federazione internazionale ha capito e sta mettendo in atto certo non è semplice fare cambiamenti però poi serve tutto perché serve anche la versione tradizionale in qualche modo certo non so io guardo il cricket ok che sono tipo 5 giorni sei proprio un anglo sassa ragazzi piace di brutto il mio sport preferito lo guardo ossessivamente e allora sono 5 giorni la partita tradizionale sì esatto e lo guardano cioè sono milioni di persone al mondo che si stanno lì e lo guardano poi c'è la versione breve cioè media che è un giorno che comunque è un giorno alle 9 alle 6 e poi c'è la versione che adesso sta spopolando che dura un'ora e mezza è finito tutto quanto e funzionano tutti e tre ovviamente dove sono i soldi quello breve perché lì puoi fare puoi cominciare a fare tornei che durano poco puoi fare una roba olimpica cioè vengono fuori tante altre cose e sì adesso c'è tipo spezzettato per diversi tipi di viewing e poi tu inizi con uno perché ti piace è come anche il rugby sevens agli olimpiadi c'è il rugby sevens soprattutto le ragazze è fighissima da guardare perché sono più più dinamiche dei ragazzi che sono un po' più cattivi però io mi sono proprio divertito di più guardare loro e poi tira dentro le ragazze che guardano quello e poi dicono ma cos'è quello sport vero e giocano con quello lì a 15 e introduci i bite size sì è la marijuana dello sport dell'anno di disciplina ti fa entrare nel gateway drug ecco è quella famosa dose esatto inizi con quello e poi non smetti più womba figo siamo a quasi l'oretta abbiamo fatto molto bene è piacevole vedi quando le chiacchiere vengono così poi infatti cioè quello poi appunto noi siamo dentro un negozio cioè siamo dentro un negozio adidas in via Tocqueville a Milano e non sembri essere qua nel senso siamo intorno a questo tavolo e io non so niente di Tiaplon non ti ho mai conosciuto prima Andy sì però c'è proprio è facile è facile parlare e poi vabbè anche te lo rendi abbastanza facile abbastanza perché poi in sostanza bisogna farlo no però sarebbe stato più semplice senza le mascherine anche per un po' sì no però vabbè quello è però siamo qua sì perché siamo in un luogo pubblico allora abbiamo dovuto metterle per forza ma contenti di farlo dai ci staranno certo ma al di là delle mascherine credo sia insomma sia piacevole più che altro è figo a me piace un sacco quando vengono fuori queste chiacchiere perché poi quando si parla di sport è sempre più o meno si gira sempre intorno alle stesse cose infatti quando poi si si amplia un po' il discorso allora a me piace perché poi vengono fuori tanti aneddoti vengono fuori tante situazioni i confronti che poi sono le cose che ti porti a casa tendenzialmente in una giornata sono quei momenti positivi io per esempio in questo periodo sto facendo il positivo della mia giornata il positivo di oggi è che ho fatto un podcast con voi in cui ho condiviso il chiacchierato sono cose che secondo me aiutano un po' e poi è bello anche fare queste versioni un po' più lunghe che riesci ad entrare un po' nel merito delle cose invece di fare una domanda c'è una risposta ok prossima domanda dove andiamo la classica intervista esatto così per noi il bello è la diretta esatto molto meglio così per noi e niente adesso io direi che almeno che hai altre no ma per carità io sono sono a posto adesso potremmo far iniziare il contrario in cui faccio le domande a voi facci la domanda vai 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 no allora vi dico la verità a me piace un sacco allora il triathlon mi ha portato veramente a viaggiare a viaggiare un sacco e a scoprire il mondo perché prima effettivamente fino a 17-18 anni non avevo scoperto granché e questa cosa è stata la cosa veramente più figa che mi è piaciuta perché viaggiare mi piace mi sento dinamico mi sento vivo mi piace non vedere persone popolazioni infatti una cosa che mi ha attirato un sacco di Andy è stato fatto comunque mi diceva che era cresciuto in Sudafrica siccome sono stato in Namibia e poi sono stato anche in Sudafrica mi piace molto l'internazionalità o meglio il vedere il percepire stare insieme condividere con persone che hanno vissuto tante esperienze e quindi vediamo vi faccio una domanda forse in generale forse anche troppo alla fine voglio fare la domanda certo che voglio fare la domanda ragazzi no come è stato crescere in Sudafrica e un po' la differenza diciamo non so se voi avete vissuto praticamente quasi tutta la vostra vita cioè adolescenziale in Sudafrica come è stato ecco questo voglio dire perché qui sappiamo come si cresce ma come è stato lì allora vario anche due punti di vista diversi non avendo conosciuto come si cresce qua no sembra la cosa più normale del mondo nel senso che alla fine vai a scuola cioè hai i tuoi compiti torni a casa cioè hai la famiglia cioè crescendo in un modo generalmente normale penso che sia molto simile a qua la cosa più diversa è che eravamo molto più liberi soprattutto dove eravamo noi perché eravamo in un paesino in mezzo al niente con l'oceano e tutto quanto campi di banana e canna da zucchero allora avevi la possibilità di nasconderti di fare casino che non faceva danni e sparavi oppure andavi con la moto in mezzo al nullo quando nasci ti danno una pistola in Sudafrica questa è la differenza cioè un nostro amico aveva fatto il cannone per sparare le patate no? cazzina che dai buona roba del genere allora cioè tutti lì hanno questo senso del essere invulnerabile indistruttibile allora cioè non c'è paura di oddio c'è un c'è un'ape come vedo tanti bambini no vai lì e giochi con il serpente cioè è quello c'è libertà la più grande differenza secondo me cioè questo senso di cioè vai si fai parte di un ambiente che si ha le sue difficoltà però quella è la cosa più grande forse il negativo forse cioè il sistema scolastico è un po' troppo facile nel senso che non mi pare un cazzo la vita è vera cioè veramente cioè ti insegnerai le basi e poi devi essere te un po' a costruire le tue culture qui volendo puoi alzare il livello molto di più cioè se hai voglia di farlo puoi fare lì era molto difficile cioè voglia non penso che nessuno di loro le aveva però almeno la scelta di farlo forse una via di mezzo cioè non fare a scuola questo non determina se cioè che persone siete voglio dire no è quello però lo sport è a scuola allora dovevi fare avevamo campi da calcio campi da rugby campi da cricket cioè eri costretto praticamente a fare almeno due sport all'anno perché faceva parte del curriculum poi se non lo volevi fare dovevi fare qualcos'altro non so scacchi scacchi o dibattito davvero qualsiasi cosa che era della comunità della scuola in teoria quando ci siamo all'inizio tutti i ragazzi della scuola dovevano andare a guardare le partite del sabato era obbligatorio poi questa cosa piano piano è andata a scemare perché nessun genitore voleva stare lì a guardare la partita di un altro figlio che giocava ogni sabato che di solito perdevamo perché era così però c'era questa cosa che avevi l'allenamento due volte a settimana e se ti iscrivevi dovevi andarci casca il mondo e se te eri selezionato per giocare tu andavi a giocare punto anche se questa era cosa forte era bello infatti infatti gli sportivi li tirano su del Sud Africa vengono fuori perché comunque è molto non serve così tanto investimento a Gross Roots perché lo fai semplicemente poi andando avanti c'è tutto il percorso scolastico e universitario che poi ti porta a giocare nelle nazionali con le robe lì però almeno tutti sanno prendere una palla al volo tutti sanno correre tutti riescono a fare una missione tutti giocano cricket le cose basilari anche se cricket effettivamente non so se sia basilare ma ci sta coordinazione occhio mano e poi senza di squadra invece io parto da un punto di vista un po' diverso perché io ho cominciato a skateare intorno ai 14 quindi per me tutti i video di skate erano in città California New York Boston e quindi abitando in un paesino dove era tutto verde dove quasi tutte le strade non erano neanche lisce sognavo quel mondo e quindi per me il punto più vicino era quando veniva a Milano in vacanza e avevo questa roba qua già prima di skateare cioè vedevo la città e dicevo come faccio a giocare in questo ambiente perché vedevo i passamani vedevo le scale dicevo ero attratto ma non sapevo come poi ho scoperto lo skate e quindi Sudafrica mi stavo non stretto però non riusci a realizzarti in quello che esatto cioè mi 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 prendevo proprio bene quando venivo in città e quindi per me è stato ancora adesso quando vado in centro è come andare in vacanza quasi perché dico ah che figata i palazzi cioè e quindi per me è stato quello più che altro cioè mi sono ambientato subito e anche e basta cioè proprio la differenza più grande forse è più a livello di comicità e di come far come parlare con le persone quello è molto diverso cioè giochi di parole in Sudafrica è proprio l'ordine del giorno qua è un'altra roba quindi devi sarcasmo esatto imparare a a interagire con le persone e le prese per il culo sono anche diversi e quindi sì no quella è la cosa più difficile quando devi imparare una lingua nuova è come trasmettere il tuo carattere nella nuova lingua e nella nuova cultura quello ci ha messo anch'io un botto per capire perché facevo delle battute che totalmente che per noi era normalissime qui era totalmente fuori luogo adesso continuo però adesso sbaglio sapendo di sbagliare una volta tipo fatemi un esempio perché adesso mi avete incuriosito è difficile farlo senza essere no allora niente però però mi fate morire no semplicemente andavi giù di sarcasmo secco che e quindi ti prendevano magari molto serio tutti ti guardavano più sei serio quando lo dici più fa ridere invece sì no adesso è quasi la morte di qualcuno tipo sì esattamente così muore uno dopo tre secondi hai già fatto la battuta perché muore per esorcitarlo sì no no ma comprendo ma ci sta un comico è finito malissimo per dopo la morte di Kobe mamma mia perché lì perché c'è anche la figlia secondo me perché se fosse solo lui sai vabbè però lui è uno che era abbastanza si chiama pesante Shafir Aaron Shafir è uno che fuori fuori come una mina e lui ha fatto una battuta che presa da sola faceva ridere in quel momento lì con questo giocatore amatissimo da tutti quanti e più con la figlia e tutto quanto con questa tragedia assurda che l'hanno massacrato too soon un po' troppo presto però lui è famoso perché ogni volta che muore una celebrità lui subito dopo tre secondi mette su un tweet ma è finita ma è pazzesco però se giochi su filo dell'erosio prima e poi ti tagli eh sì certo questo è poco sicuro dai ragazzi grazie è stato molto un piacere e grazie Ari per averci ospitato e grande ci vediamo la prossima puntata prossima puntata la grande grazie grazie ragazzi grazie a tutti grazie a tutti